Valorizzare lo sport in alta quota sia nella stagione invernale che in quella estiva è l'obiettivo della legge regionale sul turismo sportivo che tra 30 giorni circa proderà in commissione regionale e poi in consiglio proposta dal consigliere regionale Lorenzo Berardinetti. La regione, secondo il dettato della norma, si occuperà di mettere in piedi un bando di concorso per sostenere economicamente tutte quelle associazioni sportive che operano sulla montagna abruzzese. E questo è un riconoscimento di tutte queste attività che fanno le associazioni in modo che creiamo un registro delle attività svolte e daremo un contributo a tutte le associazioni che faranno richiesta per quanto riguarda lo sviluppo del territorio e metteremo in rete tutto ciò che riguarda lo sportivo, dalla rampicata alla corsa in alta montagna, allo sci. Ci sono una serie di attività che vengono riconosciute a livello regionale e fanno sì che venga sviluppato il turismo anche sportivo all'interno della regione Abruzzo che già è praticato però diamo un riconoscimento e è bello riconoscere e dare un'attività proprio specifica per chi svolge questa attività in alta montagna come lo sport. Le associazioni vengono riconosciute, verrà costituito un comitato regionale, un tecnico così come sulla legge dei cammini e verrà riconosciuto, avranno delle attività e degli indici da riconoscere e vengono riconosciuti all'interno di questo tavolo regionale e chi è all'interno del tavolo regionale farà sì a riferire anche dei finanziamenti in parte riferiti a quello che spendono con un bando che verrà fatto a livello regionale. Grazie